Cento anni dalla nascita del Parco Nazionale Lazio, Abruzzo e Molise, un secolo di natura protetta come patrimonio della collettività di storia, biodiversità e tutela ambientale. Tutti i temi trattati nel convegno che si è svolto a Pescasseroli in occasione dell'importante traguardo a cui ha partecipato anche il mondo della scuola. Una gioia essere qui, ha detto il Ministro dell'Istruzione, ribadendo l'importanza della sostenibilità nell'insegnamento di ogni ordine e grado. La scuola è presente, noi abbiamo definito la nostra scuola una scuola aperta, inclusiva e affettuosa. L'affetto si coltiva nella comunità e quanto mai il Parco ha dimostrato di essere la comunità del nostro paese, cioè quella che riesce ad unire non solo la responsabilità per l'ambiente, ma anche la capacità di investire e fare dell'ambiente il nuovo motore del nostro sviluppo. Appena arrivato lei ha detto una grande gioia. Assolutamente, una gioia immensa, una gioia immensa che condivido con il professor Cannata e con cui abbiamo condiviso tante battaglie. E credo che questa sia la battaglia più importante che oggi dobbiamo combattere tutti. Centrale per Giovanni Cannata, presidente del PNALM, è agire per conservare il patrimonio di biodiversità per uno sviluppo sostenibile a vantaggio delle generazioni più giovani. Questo è il senso di questa iniziativa oggi ed è anche il senso di aver voluto dedicare questa celebrazione dei cento anni non con gli occhi indietro al passato, di solo passato non viviamo, ma con gli occhi rivolti in avanti. E gli occhi rivolti in avanti a chi sono? E gli occhi rivolti in avanti sono destinati ai nostri ragazzi, senza retorica, non dobbiamo essere retorici. E chi è il protagonista di queste situazioni? È il mondo della scuola. Questo è il senso di questa iniziativa di oggi. Necessario ora per il direttore del parco, Luciano San Marone, è un salto di qualità. Siamo stati bravi a fare la conservazione di specie protette come l'orso, il camoscio, il lupo, tanti uccelli, tantissime cose. Però ogni volta rischiamo di metterla in discussione. Ora dobbiamo fare il salto di qualità perché è in discussione la nostra sopravvivenza.